E' una perdita di tempo. Mi hanno sottoposto a psicoterapia per annientare il mio interesse verso gli uomini. La stessa lingua tagliente, sei davvero Meryl, sei ferita? Non ancora. Ricorda che ero travestita da soldato genetico. E allora perché ti sei cambiata? Meglio restare vestita come una di loro. Mi sono stancata di travestirmi. La verità è che quell'uniforme puzzava di sangue. Cos'è quel simbolo? Oh, questo. È dipinto, non è un vero tatuaggio. Ero una fanatica della Foxhound quando ne facevano parte persone come te e mio zio. Nessuna terapia genetica. Voi eravate dei veri eroi. Non ci sono eroi in guerra. Tutti quelli che ho conosciuto sono morti o in prigione. Snake, ma tu sei un eroe, non è vero? Sono solo un uomo che sa fare bene il suo lavoro, uccidere. Un mercenario non vince e non perde. Gli unici vincitori in guerra sono le persone. Va bene, e tu combatti per le persone. Non ho mai combattuto per qualcuno. Non ho uno scopo nella vita, nessun obiettivo finale. Andiamo. Solo quando gioco con la morte sul campo di battaglia, solo allora mi sento davvero vivo. Vedere gli altri che muoiono ti fa sentire vivo, eh? Ami la guerra e non vuoi che finisca, come tutti i grandi soldati della storia. Perché non mi hai contattato? Il mio codec era rotto. Non c'è altro. Non sei contento che ci siamo incontrati in questo modo? Comunque, come hai fatto a riconoscermi? Non dimentico mai una signora. Allora, in me c'è qualcosa che ti piace? Sì, hai un gran bel sedere. Sedere? Oh, ma certo. Prima gli occhi, poi il sedere e dopo? In battaglia non bisogna mai pensare a cosa verrà dopo. Bene, Snake, come procedono le trattative? Non procedono. Tutto quanto è sulle tue spalle, allora. Qualcuno deve impedirgli di lanciare un missile nucleare. Ci sono due modi. O distruggere il Metal Gear, o... Annullare il codice di detonazione. Hai le chiavi che ti ha dato Baker. Chiavi? Intendi questa? Dove sono le altre? Ce ne dovrebbero essere tre. Questa è l'unica che ho. Dove saranno le altre due? Non ne ho idea, ma da qualche parte saranno. Se non riusciremo a trovarle, non avremo altra scelta che distruggere il Metal Gear. Il Metal Gear è in una base sotterranea a nord. Portami con te, conosco questo posto meglio di te. Mi rallenteresti e basta. Non hai esperienza in battaglia. Non ti rallenterò, te lo prometto. E se lo farai? Allora mi potrai sparare. Non mi piace sprecare munizioni. Ho capito. Starò attenta. Sai, non uso trucco come le altre donne. Capita di rado persino che mi guardi allo specchio. Ho sempre disprezzato quel genere di donna. Il mio sogno era diventare un soldato. Ma mi sbagliavo. Non ero davvero mio quel sogno. Mio padre è stato ucciso in azione quando ero piccolo. Volevi seguire le sue orme? Non esattamente. Pensavo che diventando un soldato l'avrei compreso meglio. E sei riuscita a diventare un soldato? Fino a oggi pensavo di sì, ma ora ho capito. La verità è che ho semplicemente paura di me stessa, di prendere delle decisioni che riguardino la mia vita. Ma non ho più intenzione di mentire a me stessa. È tempo di guardare in profondità dentro di me. Voglio capire chi sono e che cosa posso fare. Voglio capire perché fino a oggi ho vissuto come ho vissuto. Voglio capire... Ecco, guarda bene perché per un po' di tempo non lo potrai più fare. Dovresti anche lavarti la faccia. Questa non è un'esercitazione. Qui sono in gioco le nostre vite. Non ci sono eroi. Se perdi, sei il cibo per fermi. Sì. Quel FAMAS funziona. Purtroppo non ci sono le munizioni. Dov'hai preso quella Desert Eagle? L'ho trovata nell'armeria. È un Action Express calibro 50. C'era anche una pistola Socom. Ma ho preferito questa. Oh, allora io uso uno scarto, eh. Quel cannone è un po' grosso per una ragazza. Non ti preoccupare, riesco a maneggiarlo. Avanti, usa la mia 45. Senti, uso questo tipo di arma da quando avevo otto anni. Mi sento più a mio agio con questa che con il mio reggiseno. Se dobbiamo andare a nord, dovremo passare per la stanza del comandante, su questo piano. Il percorso all'esterno è bloccato dal ghiaccio. Quella porta è del quinto livello di sicurezza. Questa tessera l'aprirà. L'ho trovata nella tasca dell'uniforme che indossavo. Sembra appartenesse al guardiano di qualcosa di importante. Ok, andiamo. Conosco questo posto meglio di te. Ti guiderò io, seguimi. È un bene che tu abbia contattato Meryl. Avresti dovuto vedere il colonnello. Ha cercato di darci un contegno, solo perché è il capo. Ma era così felice che faceva fatica a trattenersi. Mi fa piacere saperlo. Ci sentiamo più tardi, Snake. Serve qualcosa, Snake? Buona fortuna, Snake. Grazie a Dio, Meryl sta bene. Ha davvero la pelle dura la ragazza, anche se guardandola è difficile crederlo. Deve essere il modo di sculettare. Comunque sono felice che stia bene. Mi ha dato anche una scheda. Credo di poterla usare per impedire ai terroristi di lanciare un missile nucleare. Raggiungi la base di manutenzione sotterranea del Metal Gear. Il sistema di immissione di codice di detonazione si trova lì. Strano, non ci sono guardie. Cos'è questa musica? Darò un'occhiata. Tu tieniti pronto, ok? Ma che stai facendo? Che, che c'è? Perchè mi? Die, Snake. Che, che c'è? Che, che c'è? Che, che c'è? Che, che c'è? Snake, che stai facendo? Muoviamoci, andiamo nella stanza del comandante. Buongiorno. Grazie a tutti.